che cazzo di partita cioè guarda ormai anche le partite che uno dice oh vabbè una partita salvezza staranno col culo stretto e cercheranno di non subì troppo ma anche per cazzo ragazzi questi sa giocano a viso aperto hai ti sei schiappa ma è una youtuber con una cosa di quelle slong esagerated siamo tornati con questo nuovo video perché secondo voi non mi vedevo spall Empoli ma certo che me la so vista passa in vantaggio la spalla e meritatamente all'inizio diciamo che facevo cesso qua cesso qua cesso qua non ho capito bene chi chi è partita meglio però mi è sembrata sinceramente la spalla tant'è che quando torno dal bagno la trovo in vantaggio con un gol de curtis incornata l'ho rivisto gran bel gol ovviamente perché io non ce l'ho più al fantacalcio perché l'anno scorso l'ho presi quando ancora era all'atalanta poi passò alla spalla ha fatto un cazzo per tutto ecco oggi ha fatto doppietta ma va bene andiamo per gradi che cosa succede dopo succede che l'Empoli la ribalta ma anche meritatamente perché poi ha iniziato a prendere il sopravvento sulla spalla e ha creato di più perlomeno per quel tratto di partita quindi crunic serve caputo ciccio caputo veramente bomba incredibile non solo in serie b ma a 31 anni esordisce in serie a e quest'anno sta dimostrando quello che sta dimostrando quindi gol del pareggio e poi la ribalta l'Empoli con un gol da fuori de crunic che l'ho riguardato 12 13 volte ha tirato una pezza di quelle esagerated quindi passa meritatamente in vantaggio l'Empoli ma arriverà l'espulsione per un giocatore della spalla tiago cionec e là io sinceramente ho detto mod dilaga l'Empoli me farà 13 gol caputo visto che ce l'ho contro al fantacalcio e invece no ragazzi zitta zitta la spalla ha tenuto il campo io vi dico la verità non sembra ancora stanno a giocare manca un minuto non sembra che ci sia un espulso per la spalla la spalla ho guardato le statistiche un minuto prima di iniziare il video addirittura c'aveva il maggior possesso della palla questo a farvi capire come la spalla ci sta a provare in tutti i modi tant'è che poi è arrivato proprio il gol del pareggio con curtice un'altra volta un altro colpo di capo e non ce l'ho al fantacalcio contro per fortuna perché sennò le smadonne sarebbero partite in una maniera di quelle sempre esagerated ma mi sento di dire che alla fine dei fatti il pareggio è risultato più giusto perché comunque entrambe le squadre ci hanno provato hanno creato abbastanza e ripeto non mi sembrano scontro salvezza gli scontri salvezza di una volta erano partite in cui non dico che il centrocampista della squadra se la passava col centrocampista dell'avversario ma poco ci mancava cioè erano tutte 0 a 0 e under no c'è Njitz tutto è over perché gol gol se menano se tirano se schfago a Michelizze stava più a pizze uno cosa veramente questo è il bello della serie A non chiudetevi a riccio ma datevele di santa ragione mostrate le chiappe all'avversario e preparatevi a prenderlo diciamo a questo giro nessuno dei due l'ha preso è sempre in pareggio però perlomeno è stato spettacolare 2 a 2 fatemi sapere che ne pensate nei commenti a più tardi perché c'è la Juventus contro la Fiorentina post partita forse col buon Fabio detto questo vabbè bella partita comunque ciao